signore non sono degno io peccatore di alzare i miei occhi al cielo il pubblicano del vangelo di oggi è il modello del vero cristiano è questa la giusta disposizione che apre il cuore alla preghiera al dialogo con un dio che ama così follemente da rendere degni d'amore coloro che di fatto hanno fatto di tutto per dimostrarsi indegni dio ci ama malgrado noi stessi e ci accetta così come siamo realizzandoci da ogni nostra caduta il vangelo di oggi ci propone due atteggiamenti diversi per la preghiera non basta sentirsi a posto come il fariseo serve un atteggiamento di accettazione della verità su quello che siamo qui ed ora riconosciamo anche le nostre precise mancanze nei confronti dell'amore per scoprire che dio è già là e ci chiede solo di accettare che egli le ricopra con la sua inesauribile misericordia com'è la tua preghiera preghi come il fariseo come il pubblicano cosa potresti fare perché la tua preghiera sia più sincera e profonda che è un'esercizio come il pubblicano